La prima opportunità per noi è disegnare una pagina importante all'interno di questa regione. Abbiamo depositato qualche mese fa questo progetto di legge, ieri si è concluso l'iter legislativo della nostra proposta. La Banca della Terra è uno strumento vivo, un'opportunità e una possibilità per i giovani, ma anche per chi già oggi fa impresa, di ampliare le proprie possibilità di fare impresa e di fare azienda, entrare nel mondo del lavoro all'interno di un settore da sempre chiuso in un meccanismo padre-figlio. Da oggi è possibile accedere a questi terreni di proprietà pubblica, terreni abbandonati, che sono spesso soggetti al dissesto idrogeologico o agli incendi boschivi. Accedere a questi terreni significa portare in vita quei terreni e dare la possibilità a tanti di accedere al mondo del lavoro e quindi avere un'opportunità di lavoro all'interno di questa regione. Ricordiamo che è la prima legge del Movimento 5 Stelle a passare ed è la prima legge che parla di posti di lavoro. Di questo siamo fieri e contenti.